Nell'ombra della bonifica dei contenuti indesiderati, emerge una sottile sorpresa, Gianni Sperti, l'iconica figura di lunga data di uomini e donne, sembrerebbe trovarsi in un'interessante svolta di destino. Mentre l'attenzione sembrava concentrarsi altrove, un'intervista recente rivela una serie di riflessioni da parte dell'opinionista, risalenti alla sua ultima apparizione sul piccolo schermo. Sin dal lontano 2003, Gianni Sperti ha solcato i meandri del celebre show di appuntamenti di Canale 5. Noto per le sue strizzate d'occhio conflittuali e il clima spesso bollente, interrotto solo dai sonori bip censurati. L'umorismo di Sperti ha iniettato leggerezza in molte situazioni, ma la sua presenza ha dimostrato di avere spessore anche quando le dinamiche si facevano più serie. L'interrogativo che ora emerge è, quale percorso attende il famoso ballerino e opinionista, una volta fuori dal riflettore di uomini e donne? Le domande si accavallano e le ipotesi si svelano durante un'incursione di Novella 2000 nel mondo di Sperti. In un'incisiva intervista rilasciata a questo rotocalco dal tono sfumato di rosa, l'opinionista si lascia andare a considerazioni sorprendenti. Sperti non chiude la porta a possibili evoluzioni nel contesto dello studio e nella trama dello show. Lasciando intravedere un potenziale rimescolamento delle carte, forse persino un ricambio di volti noti. Tina Cipollari, eterna musa delle contesse, è convinta che il suo posto sia sempre garantito, ma la trama dei futuri episodi potrebbe riservare sorprese. Sperti, da parte sua, non nasconde di non essere del tutto sorpreso dalla possibilità di essere coinvolto in una sorta di scambio di sguardi con la mannaia decisionale di Pier Silvio Berlusconi. Sarei dispiaciuto, ovviamente, ammette con una punta di nostalgia, confessando di avere un legame profondo con Maria De Filippi. Una delle personalità più straordinarie che abbia incrociato nella sua esistenza, insieme a un team dietro le quinte che considera famiglia. Dunque, mentre l'attesa sospesa continua, Gianni Sperti non sembra essere colto di sorpresa da eventuali sviluppi, quali che siano. Le parole sono cariche di un equilibrio delicato, increspato dalla curiosità su ciò che riserva il futuro. Tra speranze, cambiamenti e possibili nuovi scenari, l'opinionista si muove con la maestria di chi ha ballato tra le pieghe dell'incertezza. Dimostrando che, a prescindere dall'esito, è pronto a regalare un'ennesima danza di verve e sagaccia. Prima di concludere, vorremmo ringraziarti per la visione del nostro video e invitarti a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per ricevere aggiornamenti sulle ultime notizie e curiosità. Sarà un modo per rimanere sempre aggiornato su eventi di grande rilevanza come questo. Inoltre, apprezziamo molto i tuoi commenti e feedback, quindi non esitare a lasciare un commento qui sotto con la tua opinione. Grazie per il tuo supporto.